Il Gup David Salvucci ha condannato a un anno e otto mesi un nisseno di 38 anni finito nei guai nel febbraio scorso per avere rapinato e tentato di rapinare alcune persone minacciandole con una siringa sporca di sangue. L'imputato, accusato nel dettaglio di una rapina e due tentate rapine, ha scelto di essere giudicato con il rito abbreviato. Il PM Dario Bonanno aveva chiesto la pena di due anni e otto mesi, mentre l'avvocato difensore Giuseppe Daqui ha chiesto il minimo della pena con il riconoscimento della lieve entità del fatto. Un primo episodio si era verificato il 19 febbraio in via Canonico Pulci, vittima un giovane che aveva prelevato del denaro da uno sportello bancomat e che era stato minacciato dall'imputato con una siringa. La vittima aveva consegnato al rapinatore 100 euro, ma quest'ultimo ne aveva trattenuti solo 50, restituendogli dunque la metà della somma. Il giorno dopo il 38enne aveva agito in via Guastaferro, nei pressi della fermata degli autobus, avvicinando due giovani fermi in auto e indossando un cappuccio alla mascherina. L'uomo si era avvicinato alla loro auto chiedendo dei soldi e minacciandoli con una siringa intrisa di sangue. I due giovani a bordo dell'auto avevano reagito prontamente, avviando la vettura e allontanandosi. Subito era stata chiamata la polizia e gli agenti arrivati sul posto avevano raccolto la testimonianza delle persone offese. Dopo pochi minuti da questo episodio ne era stato segnalato un secondo, stavolta da parte di un uomo che stava prelevando del contante dal bancomat dell'ufficio postale di Piazza Roma. Questi aveva raccontato a sua volta di essere stato minacciato da un uomo che aveva con sé una siringa sporca di sangue. La vittima aveva inserito la carta nel bancomat, ma non aveva ancora inserito il pin, riuscendo ad allontanarsi senza farsi rapinare. I poliziotti arrivati sul posto erano riusciti a individuare a bloccare il rapinatore che corrispondeva alla descrizione delle vittime e stava cercando di allontanarsi a passo veloce. Il 38enne era stato perquisito e gli fu sequestrato una siringa alcuni aghi intrisi di sangue. Nel corso dell'interrogatorio l'imputato aveva ammesso le sue responsabilità dicendosi pentito delle sue azioni e di avere agito perché spinto dall'astinenza da stupefagenti, essendo un assuntore, ma aveva aggiunto di non avere intenzione di fare del male a nessuno.